let's come sono rimasto senza parole donne scaffè direttamente da casa mia oggi sono qui per parlare ancora dei negri graviosi graviosamente insufficenti piano piano no 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 io devo dire la verità per via un cazzo vado in giro vado a lanciare vado dappertutto vado a casa mia i miei fratelli ma perché sulle tendere analisi a un lati e riscaldano per giocare un po senza che dell'egri fanno un po ti conosco un giro che si chiama il coglione c'è anche una ragazza che mi piace ma quando non c'è da che cazzo adesso parliamo anche della famiglia la famiglia sono molto qua che cazzo sto dicendo io voglio scappare di casa e parliamo del sport il resto fa tutto cagare tanto cosa è bello adesso fa tutto cagare conosco un tizio che c'è una tizia che si fa di sì un bagno tizia si fa di sì e così si masturba e mani qualche sfasera musica come marco si fa di sì è gravioso ed occhiamo al polizia anche voi chiamate polizia queste cose sono gravemente insufficenti non si può sopportare dito la vostra e genitori così come lo stato adesso prendiamo di internet io conosco tre cantanti famosi 22 mi stava sul caso non mi piace perché mi sta cercando giusti libero bello figo quello che mi piace lega bue grazie lega bue adesso tutti possono possono invitare cantanti altro che già si muove le figo c'è ancora qualcosa altro che non capisco i puli di bistecca e quelli di bistecca queste bianche che continua segura figo delle negri che cazzo informa bene con un grande bello che abbiamo che tu sai che non c'è il culo che non c'è il culo che non c'è il culo perché c'è il culo di bistecca vai a casa a pochi cilano minuto la cucina mi ha fatto in casa non ci venire qua mi stai terminando lo spettacolo con mistero unamore spettacolo con il trattino vieta merda sono veritiero 2 tipico finito ciao